La partita era finita così come l'abbiamo persa pareggiata domenica quando era nelle mani nostre, però questa anche era nelle nostre, sarebbe stato un peccato mortale lasciare i tre punti ad un avversario che comunque aveva fatto veramente pochissimo per cercare di meritare la vittoria. Noi abbiamo provato a giocare, abbiamo cercato di fare la partita dal primo all'ultimo minuto, su qualche piccolo errore si è aperto il campo e raramente abbiamo subito occasioni da gol e ripeto, l'abbiamo preso nel finale, sono stati bravi ragazzi a crescerci fino alla fine, però penso che è un pareggio strameritato e se l'avessimo raggiunto anche un pochino prima secondo me sarebbe stato spazio anche per provare a prendere la vittoria. Certo, beh il light motive delle partite del suddito contro le grandi un po' è abbastanza scritto sostanzialmente insomma. Devo dire che forse delle squadre di vertice, di quelle che ambiscono a qualcosa di importante, siete quella sicuramente che ha più dinamismo e più velocità nella giocata. Sono stati bravi ragazzi, erano diversi ragazzi che hanno giocato che non l'avevano fatto prima e questo per me è una bella cosa, hanno dimostrato di saperci stare dentro la squadra, di sapersi prendere le occasioni. Dobbiamo essere bravi a utilizzare tutte le risorse che abbiamo perché il campionato è lungo e difficile, non mi piace utilizzare i giocatori solo quando c'è la necessità assoluta, mi piace riuscire a coinvolgere tutti e oggi i ragazzi sono fatti trovare pronti. Sarebbe stato, ripeto, un grande peccato perderla perché abbiamo fatto una buona partita con tante cose da poter migliorare perché per quanto predominio abbiamo avuto comunque avremmo potuto entrare alcune volte con un pizzico più di furbizia. Però faccio i complimenti ai ragazzi che durano fino a stasera e poi domani ci riconcentriamo perché giovedì abbiamo un'altra grandissima partita da affrontare. Mi scusi, vorrei ritornare sull'insifit iniziale. Quindi lei l'ha letta che non è un pareggio conquistato per otto e la cuffia, quindi neanche un pareggio stretto, mi vuoi aver capito. Se non dico che avremmo perso, immeritatamente credo. Credo, credo, immeritatamente. La faccio meglio, il Flosinone avrebbe meritato la vittoria per lei? Per me avrebbe strameritato di vincere questa partita per come si è giocata la gara e nel finale invece siamo stati bravi a grappare il pareggio che era il risultato l'unico che potevamo sperare perché mancavano 15 secondi alla fine. Però la partita è stata giocata da noi dall'inizio alla fine, abbiamo cercato di andarla a vincere. Siamo stati puniti sull'unica ingenuità del primo tempo al venticinquesimo del primo tempo, nella prima volta che ci hanno oltrepassato la linea difensiva. Dobbiamo essere bravi a sapere che ci sono anche queste squadre, questo tipo di squadre e quindi a trovare i modi per affrontarle senza rischiare di recuperare il pareggio per il rotto della cuffia nel finale. Grazie a lei. Minister, io invece volevo dare anche uno sguardo al futuro, visto che abbiamo tante partite in pochi giorni. Due pareggi all'ultimi secondi, due partite ovviamente diverse, però adesso cosa ci aspetta nella partita contro la Regina in trasferta? Ci aspetta una grande partita da fare. Non dobbiamo perdere di vista quelli che sono i nostri obiettivi, non dobbiamo volare e illuderci inutilmente, dobbiamo essere felici di quello che la squadra sta facendo, ma mai sazzi, perché comunque questo è un campionato che se ti adagi poi paghi pegno e noi invece non vogliamo pagare pegno, vogliamo continuare a fare le partite. Avrei fatti complimenti alla squadra anche se avessimo perso, perché per me abbiamo fatto un'ottima gara e gliele ho fatti con il pareggio, quindi è andata meglio così. Grazie.